Dopo 47 anni l'Union torna in Salicci, come la vede? Sono contentissimo, essendo stato anche io un uomo di sport, so cosa vuol dire, andare a vincere i campionati è una bella cosa, insomma sono molto contento, anche da tifoso. Parteciperà domenica alla festa? Volentieri, ma solo al lavoro. Cosa servirà adesso per rimanere in Salicci? Beh, intanto umiltà, costanza e lavorare sodo. E anche investimenti. E anche investimenti, certo. Però prima umiltà. Ha seguito magari la partita di Pino, è un tifoso, come vede la promozione? Allora, l'ho seguito poco perché ero a lavoro, l'ho seguito tramite i social, le dirette e così vai. E ho visto un risultato positivo, insomma, è una cosa bella perché può comportare anche molta gente, può ravvivare la città, diciamo. E cosa dire? Niente, buona fortuna, tante belle cose per il prossimo anno, insomma. E vediamo come adà. Andrà la festa domenica prossima? E col lavoro farò molta fatica. Sarò lì con il cuore, diciamo. Cosa servirà adesso per rimanere in Salicci? Cosa servirà? Sicuramente si dovrà fare qualche rinforzo a livello di squadra. So che dovranno fare qualche lavoro a livello di stadio, di parcheggio, di cose varie, insomma. Se serviranno anche i tifosi, un po' il popolo che segue la squadra, che si è vicino, perché è un traguardo molto, molto grosso. Anche atteso, no? È stato segnalato più di una volta. Soprattutto atteso, è importante, sì. Quindi speriamo, dai, speriamo bene. Grazie. Buongiorno, come si è risvegliata oggi la città dopo la promozione in Salicci? Beh, sicuramente la città è molto felice di questa. Tanto che noi ne abbiamo approfittato, ok, per poter mettere fuori anche i numeri degli otto, che abbiamo appunto realizzato. 24, 47, 77, Venezia, tutto è nazionale, ed è il termo dell'Unione Crodienza. Speriamo che la città vinca, come ha vinto l'Unione Crodienza e la promozione in Salicci. Abbiamo doppiamente il canale. Doppiamente il canale, esatto. Quindi la città prestigia sia per uno che anche per l'altro. Quando c'è l'estrazione di questo... L'estrazione è domani sera, la giocheremo quattro volte, quindi martedì, giovedì, venerdì e sabato. E in bocca al lupo a tutti. E complimenti all'Unione Crodienza. Sì, è risvegliata oggi la città dopo la vittoria e la promozione in C? Sì, è risvegliata perfettamente e tutti contenti per quanto riguarda la vittoria dell'Unione CS sul Beluno. E' stata una vittoria fantastica dove tutti ci aspettavamo di arrivare alla Serie C dopo tanti anni da quello che era il nostro traguardo. Comunque siamo stati contentissimi per quanto riguarda la nostra vittoria. Tutti questi anni che aspettavamo la promozione Serie C non riuscivamo mai a arrivare. Oggi l'abbiamo sfiorata tante volte e oggi l'abbiamo superata. E siamo contenti e felici. Domenica festa? Domenica facciamo una grande festa che tutti quanti aspettavamo da tanti anni. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.